Tornata a Tommaso Montanari. Di nuovo buonasera. Buonasera, allora l'abbiamo detto, insegna storia dell'arte moderna all'Università per stranieri di Siena, ma in libreria con la seconda ora d'arte per in audio. Noi stiamo cercando di sfruttare questa pubblicazione del professor Montanari, perché noi abbiamo più volte detto che l'arte ci racconta storie universali che ci possono aiutare a comprendere pure quello che avviene al giorno d'oggi. Ad esempio in politica risuonano, per fare un esempio il lavoro che abbiamo chiesto di fare al professore, risuonano le accuse di scorrettezza, di tradimento, pensiamo allo stai sereno, di Renzi a Letta, ai 101 franchi tiratori che non mandarono prodi al Quirinale, i cambi di casacca da uno schieramento all'altro. E abbiamo chiesto al professore di trovare un quadro che avesse già individuato queste categorie. Professore. Io ho pensato alla presa di Cristo nell'orto di Caravaggio, un quadro dipinto sul 1602 da un Caravaggio che si affaccia sulla scena. È un quadro molto impressionante che si trova a Dublino. Vediamo San Giovanni, il più caro amico di Gesù, il discepolo, che scappa. Nell'ora della prova, nell'ora dell'attacco, nell'ora della trappola, gli amici, gli alleati, anche in politica, spesso fuggono e lasciano solo il protagonista, che è la vittima designata. Gesù, in questo caso, anche se devo dire di Gesù nella scena politica italiana, non è che ne veda moltissimi. Più Giuda ci sono, che è l'altro protagonista. Giuda bacia Gesù. E questo è veramente un simbolo straordinario. Mentre si dice di essere amici, stai sereno, in realtà proprio quell'atto indica ai soldati chi è Gesù, chi è l'obiettivo da colpire. In qualche modo si aizza alla folla, si aizza la forza bruta, la forza del potere, contro un obiettivo. E i soldati agiscono. Giuda agisce per denaro, agisce per mandato del potere, i sommi sacerdoti, il sinedrio, e intorno chi c'è? C'è, potremmo dire, una zona grigia. Dall'altra parte del quadro, c'è dietro ai soldati, Caravaggio si autoritrae. Caravaggio era un uomo onesto, sapeva di non essere un eroe, sapeva di essere un uomo come molti, un uomo della strada, diremmo oggi, che sale in punta dei piedi, alza una lanterna per vedere, ma non agisce, non prende le parti di Gesù, non lo difende. È quella zona grigia che permette spesso anche in politica, che i progetti, le congiure, i tradimenti, le congiure di palazzo, vadano a buon fine, aspettando di vedere chi vince, per salire prontamente sul carro del vincitore, magari con grandi alleanze per la salvezza del paese, con grandi ammucchiate in cui tutti stanno un po' pigiati, ma ci stanno. Qua ci mette una nota più sua, diciamo, che da storico dell'arte. Invece, professore, non è troppo, il Volta Gabbana è Giuda. Insomma, Giuda tradisce, Giuda tradisce un amico, un maestro, un mentore, e lo fa per soldi, i 30 denari, poi si pente, li va a riportare al Sinedrio, è meravigliosa l'ipocrisia di chi gliel'aveva dati per portarlo all'uccisione di Gesù, dice, sono il prezzo del sangue, non si possono mettere nel tesoro. Giuda è una figura complessa, profonda, su cui la letteratura, la filosofia hanno riflettuto moltissimo, si può rischiare di banalizzarla, ma non c'è dubbio che anche nel linguaggio comune i politici traditori, ne conosciamo molti che hanno fatto molte pirouette, vengono additati come Giuda. E non penso a chi, diciamo, vota contro il proprio gruppo in dissenso per un'idea. Questo la Costituzione lo protegge, non c'è il vincolo di mandato. Penso a chi segue solo il proprio interesse, a chi promette una cosa e ne fa un'altra, a chi dice lascio la politica se perdo il referendum e poi non lo fa. Insomma, ne conosciamo molti che sembrano un po' dei Giuda. Allora, cambiamo invece il punto di vista perché non ci sono solo i tradimenti, ci sono anche i patti, le alleanze, i progetti comuni, gli abbracci ideali. Pensiamo ai nemici di un tempo, PC e DC che diventano addirittura un solo partito, il PD, con certo molti passaggi e per stare ai giorni nostri la grande coalizione che sostiene il governo Draghi. Allora, l'arte ha mai solcato questo terreno? Beh sì, ci sono dei momenti in cui questo è visibilissimo, per esempio la rivoluzione francese, i pittori che erano abituati a ritrarre il sovrano, un singolo, una persona sola, che si trovano, è il caso di David, a raffigurare invece un'assemblea. Si passa da lì o al noi, dalla dimensione del salvatore della patria, del padre padrone, a una dimensione collettiva e direi che su questo fronte rischiamo di tornare indietro invece che andare avanti. questo quadro che è un abbozzo per un quadro che non fu finito, perché purtroppo quella stagione finì prima del quadro e anche questo ci parla della fragilità delle democrazie, rappresenta una moltitudine, però la cosa interessante è che non è una moltitudine indistinta, non è una massa senza nome, non è un volgo disperso che il nome non ha, perché David studiò i ritratti di tutti i deputati, doveva essere un ritratto di un soggetto plurale, collegiale, ma in cui ognuno aveva la sua individualità, è l'esaltazione di un'idea di Parlamento, il giuramento della pallacorda quando si giura di non separarsi finché non si sarà costretto il re a dare una costituzione, il bene supremo di una collettività, di un popolo, una costituzione, la base di ogni democrazia. È un quadro in cui nella sala della pallacorda dove si giocava a un gioco simile al tennis, in alto c'è il popolo che guarda e le grandi tende che si gonfiano, come se soffiasse il vento della democrazia. È strano perché c'è un linguaggio figurativo che rappresentava i santi e i monarchi che invece ora rappresenta la forza di un Parlamento. Lo trovo straordinariamente bello e ispirante ancora per noi. Abbiamo detto un'opera che esprime i valori della democrazia, ha detto è fragile in qualche misura, lo è anche oggi? Io penso di sì, penso che quando si guarda l'uomo della provvidenza, quando si passa all'oligarchia, quando entrano in scena i generali, quando non si parla più nemmeno di mettere una legge proporzionale, quando il Parlamento viene sentito come un peso, una palla al piede, lo si taglia, lo si umilia, quando si inseguono chimere come quella della democrazia diretta e come vede ho parlato di tutti, di molte parti, io credo che la democrazia sia in pericolo. Noi abbiamo bisogno di parlamenti dove si agisca il conflitto sociale e si trovi una strada comune. La legge elettorale proporzionale sarebbe l'unica che potrebbe permetterlo. Mai, come in questo momento, l'umanità è stata divisa fra pochi che hanno quasi tutto e moltissimi che non hanno nulla. Se togliamo alla grande massa dei poveri anche la rappresentanza politica è davvero scacco matto alla democrazia. Sa che però c'è chi dice che invece mettendo il sistema maggioritario vengono spinte le persone a trovare un punto comune. E non è così, in realtà la nostra Costituzione è nata con l'idea di un sistema proporzionale, non c'è scritto in Costituzione, ma se riguarda per esempio l'articolo 138 tutte le garanzie sono pensate per il proporzionale e i grandi compromessi virtuosi, compromesso non è affatto una brutta parola se è un compromesso fatto nell'interesse generale, sono venuti col proporzionale. In realtà con il maggioritario i governi non sono affatto diventati più stabili e si è scatenato un liderismo estremo prima nei comuni e nelle regioni perché ricordiamoci che la sperimentazione del maggioritario più estremo sta nei comuni e nelle regioni, ormai i consigli comunali e i consigli regionali non sono più assemblee democratiche l'opposizione non conta nulla e ormai gli chiamiamo governatori i presidenti delle regioni io credo che sia una stagione su cui dovremmo riflettere molto attentamente diciamo dietro tutto questo c'è stata la convinzione che avessimo bisogno di meno democrazia cioè che la democrazia fosse il problema io credo che la democrazia sia la soluzione non il problema l'arte e l'attualità nelle parole nel punto di vista di Tommaso Montanari vi ricordo la seconda ora d'arte per Einaudi pochi secondi di pubblicità arriva Laura Gombetti con le notizie